musica cignu ascia sfuse? cos'è che gina? ascia l'empegnata e cos'è che alua? uuh e c'annome bene per vedere in questo modo eh? è pronto il caffè? vittorio caro oh bello signorica margherita a cadere di ciò che super oh bello ma te ma amore ma te l'anticipo che bello ah shi 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 ah ma sei la mia pasto e dove sei con gli altri? ah 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 ma perché ci ha pensato che abbia essere brutte legue? eh me me l'ha detto l'ermiglia ah a me me le bugiano bella questa volta che ho portato nella lettera no no ma non vuoi fermare questo pranzo perché perché perché? perchè deve piggiare le pastiglie del colesterolo si 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 ma se le ha scordato a casa si si e che cosa mi ha contato? mi ha contato tutto no? e oggi a venire con me che gli mostro dove l'è a toalata e che? poi il papà l'è morto l'è morto e allora un traslucco ma che imbrega penso proprio che ti hai ragione andiamo per la lasagna che di fritta abbiamo fatto abbastanza grazie a tutti